Non si sa, me ne sono soglia da adesso e praticamente ho sognato, stavo a una specie di mercato per roba nerd, poi stavo a Massachusetts e poi sto aspettando il mio compagno a distanza che mi aiuta ad arrivare nella mia camera perché non sapevo dove fosse e per arrivarci ci dovevamo arrampicare, poi per arrivare sui letti per dormire erano tutti strai in cima e toccava arrampicarsi e anche portare il materasso all'incita. E poi i letti erano tutti inclinati quindi se ti sdraiavi scivolavi e niente è stato strano. Buongiorno.